Revocati gli arresti domiciliari e disposto l'obbligo di dimora per BR, 75enne di Bugnara, ritenuto responsabile dell'aggressione nei confronti dell'avvocato Reforo di Sulmona, Vincenzo Colaiacovo. Il Tribunale dell'Esame dell'Aquila ha accolto l'istanza formulata da legale dell'uomo, sostituendo la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora nel comune di Roma, dove il 75enne è attualmente domiciliato a casa di un parente. L'arresto era scattato proprio per il pericolo di reiterazione del reato, tant'è che con la nuova misura cautelare il 75enne potrà circolare solo sul territorio comunale romano, senza potersi allontanare altrove. Una misura che, seppur meno grave dei domiciliari, resta comunque restrittiva alla luce del solito quadro probatorio. Secondo la ricostruzione operata dai carabinieri di Sulmona, l'indagato, lo scorso 27 giugno, avrebbe violentemente aggredito nel centro storico di Sulmona l'avvocato Vincenzo Colaiacovo, colpendolo più volte con un corpo condundente, un bastone di legno. Una scena raccapricciante. I militari operanti, grazie alle testimonianze acquisite all'esame delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza cittadina, individuarono l'autore del gesto. L'avvocato finì in ospedale dopo quella brutale aggressione, rimediando 20 giorni di prognosi solo in via provvisoria, perché in seguito sono stati svolti ulteriori esami e accertamenti. I fatti sarebbero scaturiti da una causa civile che l'aggressore, condannato a risarcire, aveva perso qualche giorno prima dell'episodio, che vedeva come controparte proprio Colaiacovo. Lo scorso 11 luglio scattò l'arresto per l'anziano dopo l'ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, misura confermata all'esilo dell'interrogatorio di garanzia. Nelle scorse settimane il riesame dell'Aquila ha sostituito la misura cotelare con l'obbligo di dimora. La notizia è trapelata solo in queste ore. La notizia è trapelata solo in queste ore.